Nessun imprenditore serio dice che l'articolo 18 è il problema. Non è un tabù. Non è un tabù, non è un problema. Voi avete qualche tabù sul mercato del lavoro, visto che Monti ha detto che bisogna affrontare. Insomma, adesso ve lo dico, è il tabù. È buon senso, eh. In questo momento se c'è una cosa che succede facilmente è lasciare a casa la gente a lavorare. Abbiamo 800 mila posti di lavoro in meno, ma il problema sarà come le mettiamo dentro il lavoro. Sarà mica come le buttiamo fuori. È facilissimo buttare fuori. Lo dice anche l'Ocse, non è affatto vero che in Italia c'è rigidità nel buttare fuori. La rigidità italiana, semmai, è su altri temi, cioè su elementi anche contrattuali che impediscono spesso all'organizzazione aziendale di muoversi con la flessibilità sufficiente. La differenza con la Germania è tutta questa qua. Non è che in Germania abbiano la facoltà di licenziare. In Germania non licenziano, riorganizzano.